Continua questa volta con maggiore insistenza la protesta dei residenti a Modica Alta, assillati dalle scorribande dei giovani motociclisti rumorosi, e quanto avviene con insistenza ormai costantemente durante tutta l'estate, nel tratto di strada che conduce dalla chiesa di San Giovanni alla piazzetta del Pizzo. Residenti esasperati dal dover subire ogni notte dalle 23 sino a notte inoltrata un continuo andirivieni di giovinastri che si cimentano con le loro moto in vere e proprie gincane pericolose, rumorose, incuranti del fatto che in questo modo, oltre a disturbare la quiete pubblica, costituiscono un serio pericolo per l'incolumità dei pedoni. Nella problematica si è fatto carico in questi giorni la sezione di Modica d'Italia dei Valori, che in una nota sollecita l'amministrazione di intervenire, magari facendo ricorso allo stesso metodo adottato Marina di Modica da parte del primo cittadino, che si è rivolto ad un istituto di vigilanza privata per garantire la sicurezza dei villeggianti. Italia dei Valori auspica il ricorso a tale metodo anche per i residenti di Modica Alta. Anche per scongiurare viene scritto in una nota diramata che i cittadini possano pensare ad una politica di due pesi e due misure da parte dell'amministrazione comunale. Sul problema della mancanza di sicurezza in città pone l'accento anche articolo 1 Modica, che parla di mancanza proprio di sicurezza sia in città che nelle zone marinare di campagna, dove il livello di percezione della sicurezza non è mai stato così basso, con continui assillanti furti che non danno tregua ai cittadini e hanno instillato la paura. Articolo 1 riporta anche la nota di una cittadina modicana che vive in un'altra città, che tornando per le vacanze con amici nel suo paese scrive sui social di aver trovato degrado e mancanza proprio di sicurezza, postando foto che mostrano grandi scritte vandaliche sui muri degli edifici nel centro storico, chiedendosi che si occupi di una città che dovrebbe essere invece patrimonio dell'UNESCO. Un'amministrazione attenta e corretta scrivono nella nota articolo 1 dovrebbe pensare per prima cosa a garantire la percezione della sicurezza ai propri cittadini e al decoro di fronte all'occhio di cui guarda per ammirare trova invece soltanto immondizie e degrado. Grazie a tutti.